Venivamo da due brutte sconfitte, le avevamo affrontate male come atteggiamento e il nostro obiettivo di domenica scorsa era quello di affrontarla in maniera diversa. Questo è stato e infatti il risultato è venuto a favore nostro. Da quando sono arrivato vedo sempre che chi gioca o chi non gioca si allenano allo stesso modo e questo secondo me è l'obiettivo principale di una grande squadra in modo tale che quando c'è l'opportunità uno la sappia sfruttare in maniera adeguata ma questo non vuol dire che si è vinto perché magari c'era qualcuno che aveva giocato meno assolutamente. Erano un'ottima squadra quando l'ho affrontato io in finale l'anno scorso e non sono rimasti così, si sono migliorati molto facendo degli acquisti importanti, si sa puntano direttamente ad andare su a fare il salto di categoria. L'hanno dimostrato con gli acquisti che hanno fatto e con il percorso che stanno facendo quindi poi conoscerli o non conoscerli è relativo bisogna cercare di affrontarli nella maniera giusta e anche se si conoscono meglio e cercare di affrontarli appunto nella maniera giusta e non farsi cogliere impreparati. Basta perdere una partita e ci si ritrova giù, vinci quella dopo e sei subito sopra. Per questo ripeto quello che ho detto prima, dalla prima alla 42esima non bisogna mai lasciare nulla al caso e avere sempre la stessa concentrazione. L'obiettivo è quello di giovedì di fare una grande partita contro una grande squadra che come hai detto tu punta la Serie A. Noi intanto abbiamo l'obiettivo di fare al meglio e cercare di portare a casa più punti possibili giovedì e l'obiettivo dopo sarà quello di chiudere il girone d'andata giovedì prossimo e basta e poi si rifiaterà, poi non ci sono da mettere obiettivi. Sto benissimo, sto benissimo fuori dal campo, secondo me un giocatore quando fa bene dentro il campo è perché sta bene anche soprattutto fuori, quando si sente a suo agio con la piazza, con i tifosi, con il resto, con la città in generale.